Passeggiare per Cacciano è una continua scoperta. Le pareti delle case, situate nella frazione di Fabriano, che d'inverno conta una settantina di abitanti, riservano infatti sorprese a non finire. Basta svoltare un angolo per trovarsi davanti una scena di vita rurale, un bellissimo pavone, oppure salire una scaletta per imbattersi in una mucca al pascolo. Fino a terminare la passeggiata davanti l'opera più maestosa, il gigantesco rapace. Tutti rigorosamente murales, opera di graffitari che negli anni hanno trovato qui la fonte della loro ispirazione, sostenuti anche dagli abitanti del posto che vogliono preservare il borgo dall'incuria del tempo e dallo spopolamento. Noi ci perdiamo tempo, ci piace valorizzarlo un poco perché così non è che se no muore tutto. Un contesto particolare, un paesino nell'introterra delle Marche, vedere queste opere così è emozionante. Questi ultimi anni addirittura abbiamo avuto proprio un artista grande secondo noi. Avete visto l'ultimo che hanno fatto? Parla da solo, forse le immagini sono più delle parole. L'opera in questione è l'ultima in ordine di tempo, il ritratto della signora Italia, la più anziana del paese che porta la firma dello street artist jesino Federico Zenobi. Convincere la signora Italia a diventare protagonista di un murales non è stato facile come lei stessa ci racconta di ritorno dalla messa di metà mattina. Non le piace? Mi piace, però ci rido tutti con me. Ah no, è diventata una celebrità. Sì, non so, vedremo più tardi. Ma io sono stata sempre tra le macchie, capito? Ha lavorato sempre in campagna. Sempre in campagna. Ero da 5 anni, sempre fuori con le veste, su quelle macchie. A breve l'artista jesino inizierà un'altra opera, un nuovo murales che andrà ad aggiungersi ai tanti piccoli capolavori che colorano questa frazione dell'entroterra fabrianese.